ciao a tutti stavo facendo qualche prova qui mi è arrivato un nuovo coltellino e lo stavo provando confrontandolo con quelli che ho già le recensioni di queste ci sono già disponibili sul canale e adesso vi presento il nuovo arrivato è praticamente anche lui della famiglia ultra for quindi come come questo l'ho preso su amazon costo popolare circa 8 euro è dotato anche lui come quello più piccolino di un fodero in plastica che viene appunto consegnato assieme al coltello passante per la cintura uguale a quello più piccolino praticamente insomma cambia solo la cambia solo la dimensione dove in quanto è diversa la la forma dei due coltelli vediamo allora si noterà subito che la lama è notevolmente diversa rispetto a quello più piccolino che avevo fatto già vedere è diversa sia come diciamo come larghezza sia come spessore perché qui direi che adesso non ho letto bene specifico comunque sono circa tre millimetri di metallo è diversa anche la filatura perché qui abbiamo una filatura a doppio bisello il bisello sarebbe questa parte della lama qua qui adesso vediamo se la telecamera riesce a farlo vedere c'è proprio una doppia v la più piccola qua è il tagliente è sempre un coltello acciaio carbonio è marchiato qui carbon steel in effetti finitura satinata ecco come l'altro sulla lama qua si vedono un po' i segni della della filatura ecco nell'altro questi 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 segni sono un po più profondi abbiamo magari è solo il diciamo il l'esemplare che è arrivato a me in effetti un pochino andavano a io dico dentellare non è la parola giusta ma insomma il filo non era proprio perfettamente liscio questo avendo un doppio bisello ed essendo stato fatto diciamo dai segni che posso vedere la filatura primaria in questo senso e quella secondaria in questo eventuali segni lasciati dalla filatura primaria sono stati spianati da quella secondaria allora il manico come si può vedere è imponente è adatto anche a una mano grossa più grossa molto più rossa della mia è sempre dotata di questo pomello posteriore che può servire a battere e ha questa guardia anteriore che evita lo scorrimento della mano verso la lama che altro dire il dorso anche lui è lasciato grezzo come era quell'altro nell'altro video avevo fatto vedere che avevo spianato il dorso con una lima per renderlo per rendere gli spigoli affilati e poter quindi scoccare scintille con un acciarino questa cosa diciamo che ha il vantaggio sicuramente appunto di poterlo usare in quel modo senza disfare il filo del coltello sfregando l'acciarino c'è da dire però che se si usa in questo modo cioè appoggiando il pollice sopra facendo forza per dire per fare un lavoro di questo genere cioè per dire fare questo intaglio gli spigoli della lama danno un po fastidio al pollice cioè soprattutto se uno deve fare un lavoro per un po di tempo quindi questa questa filatura chiamiamola così degli spigoli è un po fastidiosa questi sono nati come attrezzi da lavoro e quindi è abbastanza probabile penso io che siano lasciati qua sopra io dico grezzi ma nel senso che sono non sono tirati a lucido ma appunto non hanno questi spigoli taglienti perché questa operazione di appoggiare il pollice sopra per fare forza questo come si vede taglia che è una meraviglia appunto non non danno fastidio facendo questo lavoro qua ecco che altro da dire ecco stavo dicendo taglia come una meraviglia questo uscito dalla scatola è affilato perfettamente e appunto stavo provando è un altro mondo rispetto a questo che quando è arrivato non riuscivo a tagliare il cartone adesso diciamo che con un po di pazienza riesce a fare il suo lavoro anche se ogni tanto comunque ci prova incantarsi proprio perché non riesco a farlo vedere credo perché è troppo bisognebbe vederlo troppo da vicino comunque secondo me la filatura fatta in questo modo e si vedono su questo abbastanza evidenti i adesso va bene un po arrugginito perché insomma non l'ho pulito quando l'ho usato colpa mia dopo rimedierò questi segni hanno cioè erano riportati anche sul filo quindi la lama era un pelino seghettata da una parte dovrebbe anche tagliar meglio perché ecco però non ha un taglio così pulito e netto tende un pochettino a strappare niente poi vabbè stavo provando questo che è un mora bushcraft force l'ho preso un po di anni fa qui la differenza per dire che la sia la lama sia il dorso sono tirati a specchio quindi qui sopra è lucido e liscio mentre lì è ruvidino ma anche questo è vabbè niente da dire è un coltello perfetto la differenza per dire fra questi due è diciamo un po la lunghezza totale della lama il mora è un po più lungo è un pelo più affinché la punta è un po più accuminata diciamo così e lo spessore il questo qui l'ulta for è più spesso di di discretamente rispetto a questo qua il mora è in acciaio inox quindi non soffre del problema dell'arrugginimento questo è in acciaio carbonio quindi bisogna diciamo tenerlo curato ogni volta che lo si usa alla fine poi bisogna dargli una pulita ho notato in quell'altro che questa finitura un po satinata diciamo se se insomma qui se si è creata un pelino di ruggine ho cercato di pulirlo con con diciamo anche strofinandolo con un po di di cartone cartone abrasivo quindi dovrebbe diciamo in un certo modo con in modo lieve insomma senza causare danni cioè senza prendere una carta vetrata in poche parole pulire via la ruggine però siccome c'è questa questa satinatura la ruggine è un po infilata dentro e quindi vabbè ci vorrà qualche lavoro un po più un po più specifico anzi magari qualche amico del canale esperto in lame potrebbe darmi qualche suggerimento come sistemare la cosa ecco per la recensione di questo direi niente io lo consiglio perché ha una lama imponente ha un buon peso ha un buon manico oddio quest'altro qui e anche ovviamente il mora con questa gomma morbida in caso di bagnamento probabilmente fa un po più di 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 attrito cioè lo si può reggere meglio questo è il classico manico dei coltelli appunto strumenti da lavoro chiamiamoli così bagnato magari potrebbe risultare un po scivoloso il manico è molto 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 grosso quindi anche con un paio di guanti per dire penso che si possa maneggiare bene ripeto il costo è popolare 8 euro secondo me si può comprare tranquillamente usare tranquillamente per gli usi che se ne fanno appunto anche outdoor chiamiamoli così come come ho potuto cioè come ho fatto vedere è potente ecco da da sensazione sensazione di di essere robusto e poi a parte che basta cercare il nome si trovano credo decine di filmati dove tentano di distruggerlo in tutti i modi ma resiste abbastanza abbastanza bene addirittura in uno di questi filmati siccome il il codolo della lama più o meno arriva a questo punto cioè più o meno arriva a questo punto se anche si dovesse smanicare quindi per qualche motivo spaccarsi il manico e uscire la lama col codolo rimanendo in intero il pezzo ovviamente si diceva che diciamo è utilizzabile ugualmente facendo rifacendo il manichino con per dire del paracordo o con qualche cosa quindi anche in una situazione di emergenza se si dovesse diciamo non penso che succeda comunque a meno di di lavori particolarmente non so comunque uno non rimane senza coltello in poche parole ecco niente io vi ringrazio per aver guardato il filmato è un bel coltello e penso che mi diverterò a provarlo fuori grazie e alla prossima ciao a tutti grazie a tutti